Questa scuola nasce proprio dalla necessità di ripristinare un rapporto col passato e fare in modo che Napoli ritorni ad essere capitale della musica e soprattutto scuola, cioè che insegni ai talenti le materie della nostra terra, cioè canto, canzone classica napoletana, opera e tutto il resto. Prende il via, diretta dal maestro Carlo Morelli, la prima esperienza di coro giovanile della città. È una scuola aperta ai ragazzi tra i 18 e i 35 anni, accomunati dalla passione per la musica e selezionati con un bando pubblico del comune che ha istituito, con delibera digiunta, un centro per le arti performative cittadino. Nella sede del PAN, dove si terranno alcune delle attività, il corso è stato inaugurato alla presenza degli assessori ai giovani e alla cultura che insieme al sindaco De Magistris ne hanno reso possibile la realizzazione. Questi ragazzi canteranno Napoli, ma soprattutto canteranno per Napoli, saranno i nostri ambasciatori, i nostri ambasciatori della cultura e della cultura universale di Napoli e della grande tradizione musicale di Napoli in tutti i luoghi in cui, come assessorato alla cultura e al turismo, andremo a fare promozione delle bellezze della nostra città. Istituito con l'obiettivo di formare giovani di talento, il coro cittadino, esperienza unica nel suo genere, rappresenta un'opportunità soprattutto per tanti ragazzi che vivono condizioni sociali ed economiche di disagio. Già dai prossimi giorni partiranno i laboratori formativi che oltre al PAN si terranno presso la Casa della Cultura e dei Giovani di Pianura e nella Galleria Principe di Napoli. Presentiamo un percorso ed è un modo per dire che siamo pronti e a dire a tanti ragazzi che ancora non hanno avuto opportunità di sapere che c'è questa bella cosa per loro che l'aspetta, che c'è un bando aperto per selezionare talenti, ragazzi che amano la musica ma che soprattutto amano la propria città in musica. Fino al 31 dicembre c'è tempo per presentare la propria candidatura ed entrare a far parte della scuola musicale della città. Le iscrizioni dovranno pervenire compilando apposita modulistica presso la sede del servizio Giovani e Pari Opportunità in via Concezioni a Monte Calvario 26 oppure via mail all'indirizzo in sovraimpressione. Devono studiare tanto, devono capire che non ci si inventa, non basta un talent in 3-4 mesi per diventare degli artisti. Bisogna studiare una vita, loro hanno talento e devono farlo.